Vabbè, c'è ancora un po' di movimento, ma iniziamo. Io ringrazio Normando, che è un amico di Holographics di vecchia data. Dai, più di me sicuramente. Dai, forse sì. È un modesto, quindi faccio io un po' di cose imbarazzanti. È il CTO di Mixo, che è il provider locale, nonché technical sponsor, che ci ha portato l'internet. Un applauso a Mixo, a Normando e all'internet. All'internet, che soprattutto la buona internet, i nostri computer e altro, come io spesso faccio, ma infatti sono stato contento di questo talk, anche di presentarlo. Sono un grande fan di quelli che sono i concetti di base. Diciamo che l'informatica, per ovvi motivi, ha portato al fatto di allontanarsi sempre di più da quelli che sono dei tratti fondamentali della teoria, ma che sono, a mio avviso, fondamentali per comprendere un po' come funzionano le cose. E anche per non cadere nell'utilizzo anche di termini un po' a caso, si può dire questa cosa ogni tanto. Quindi praticamente parliamo oltretutto di un mostro sacro, di quella che è, non so come si può dire, della matematica, anche dell'informatica in generale. Era un matematico. Il matematico è un matematico che conoscono, ahimè, più i fisici che gli informatici. Chissà perché. Chissà perché. E soprattutto è anche un po' un reminder su una cosa che nelle scienze ci si scorda sempre più spesso, che era questo termine. Non mi ricordo questa frase, non mi ricordo da chi coniata, che si sta sulle spalle dei giganti, standing on the shoulders of giants. E l'informatica è proprio per come è fatta, anche per come immaginate, sono laierizzate le cose. O anche la storia dell'informatica è un bellissimo riassunto di come varie persone sono state qua, tutte quante, una sopra l'altra. Il termine telematica, ecco, questo termine un po' antico che oltretutto è la definizione di metrolographics. Quindi io ringrazio Normando, lo lascio a Teoria dell'informazione Nerd Svogliati e mi raccomando, domande cattive dopo, per favore. Grazie Lorenzo, grazie di questa presentazione esagerata. Appunto il ritorno alle origini mi aveva fatto pensare a quale più origine c'è, se non tutte le regole sulle quali si sono posate le cose che usiamo oggi. Davvero, da sempre c'è stato il fascino della comunicazione, di cui la internet è forse una delle più grandi realizzazioni dell'uomo e questo fascino è senza tempo. Ognuno di questi giganti, ma qualcuno forse un po' meno, ha avuto un ruolo. Quanti di voi pensano di conoscere le scoperte di queste persone o chi ha reso noto a tutti condividendo quello che avevano fatto a riguardo delle comunicazioni a distanza? Tutti pensano che gli indiani siano stati i primi a fare i segnali di fumo, invece no, è stato Polibio che ne ha scritto nel 206 a.C. Tutti conosciamo probabilmente quello che ha fatto James Clerk Maxwell, che ha messo in ordine tutto ciò che riguardava l'elettromagnetismo, aprendoci una meraviglia dopo l'altra. Sicuramente sapete cosa è stato scoperto o inventato da Guglielmo Marconi, che è la radio, ma dubito che qualcuno di voi conosca l'opera di Howard Armstrong, qualcuno lo sa, è chiamato il padre dell'i-fi perché è la persona che ha teorizzato e realizzato la modulazione di frequenza che ha trasformato l'ascolto della radio per noi umani da una porcheria a qualcosa di ascoltabile. e infine una persona importantissima di cui forse nessuno ha sentito parlare. Chi ha sentito parlare di Ralph Hartley? Nessuno. Senza di lui probabilmente il lavoro di Claude Shannon non esisterebbe. Ma qualcuno ha un'idea di che cos'è la comunicazione? Chi mi può dire? Dice, cos'è comunicare? Per esempio, io e te ci stiamo scambiando dei pacchetti? Eh, in qualche forma. Poi? Informazione. Questo è molto bello. Questo è assolutamente molto bello. Non è proprio quello che ha forse cambiato tutto perché è uno scambio di informazioni ma il nostro Claudio ci ha scritto una parola molto carina approssimato in maniera approssimata prima parola della seconda riga questo è ciò che probabilmente ha messo in atto tutta una serie di questioni ovvero abbiamo i nostri classici Alice e Bob Alice pensa di voler dire questo insieme di pacchetti a Bob e Bob l'unica cosa che ha è pensare credo che sia questo il nostro cervello lo fa continuamente siamo sicuri di quello che ascoltiamo ma in realtà non è esattamente ciò che è stato prodotto alla fonte quindi ci stanno tutte le domande che si fanno gli ingegneri e dicono ma possiamo misurare quanto comunichiamo? quanto veloce possiamo andare? lo possiamo fare se c'è bordello? e cosa cambia se c'è bordello? in tutto questo un signore che era proprio Claude Elwood Shannon che si è laureato nel 1940 con una tesi sul titolo chi la sa questa particolarità meravigliosa? Claude Shannon si è laureato con una tesi sul titolo un algebra per la genetica teorica leggo perché non sono parole probabilmente senza senso per molti di noi cioè non era una persona tanto normale ha fatto il ricercatore ai famosissimi Bell Labs dove per la cronaca è stato inventato il transistor e dal 1958 torna all'MIT come professore la cosa carina è che andava in giro con un monociclo per i corridoi dell'MIT il monociclo è la bicicletta quella con una sola ruota e dato che era troppo facile faceva il giocoliere mentre andava nei corridoi i colleghi si sono aumentati e lui per tutta risposta ha cambiato il monociclo con quell'affare con la molla che si salta e si va in giro nel 1948 pubblica una teoria matematica della comunicazione e l'accoglienza fu a dir poco sgomenta perché di tutte queste cose che aveva messo insieme nessuno sapeva cosa farsene Bell aveva messo insieme una serie di cose per definire cos'è comunicare cos'è l'informazione quanto possiamo comprimerla e quanto veloce possiamo comunicare sono stati tutti sgomenti e immaginate che magari poi ritrovo il link ho dimenticato di segnarmelo ma ce l'ho nel bookmark abbiamo dovuto aspettare il 2010 per poter raggiungere quello che si chiama limite di Shannon di cui parliamo solo diciamo molto rapidamente ma è un limite oltre il quale non si può andare e immaginate dal 1948 ci sono voluti 60 anni e oltre per poter raggiungere questo limite facciamo un giochino fino a dove riuscite a leggere? so che in inglese se fosse stato in italiano sarebbe stato sicuramente più facile però diciamo che fino ad un certo punto riuscite quasi a leggere dopo un po' diventa più difficile cosa significa questo? che in realtà vabbè che noi siamo umani siamo meravigliosi siamo bellissimi però tutto sommato ci dice che se c'è qualcosa che togliamo ci riusciamo lo stesso quindi non è tutto importante lì dentro ci sta qualcosa che non porta informazione ne possiamo fare a meno siamo in grado di andare avanti ma sappiamo anche che a un certo punto c'è un limite oltre il quale non si può andare ed è impossibile risalire alla parola sostanzialmente questa è la compressione cosa possiamo togliere che poi possiamo riuscire a recuperare questa è una delle domande che si è fatto Shannon ma per mettere le cose in ordine come tutti i matematici si è inventato un modello il modello è di Shannon Weaver perché sostanzialmente è stato quasi scoperto insieme e chissà quante volte l'avete già visto cioè c'è una sorgente di un'informazione c'è qualche dispositivo che è preposto a trasmetterla c'è un canale brutto e cattivo che ci modifica queste informazioni perché c'è del rumore perché ci sono dei disturbi per qualunque ragione c'è un ricevitore che ha il durissimo compito di tornare a quello che era stato trasmesso per quanto possibile ricevendo approssimativamente quello che c'era prima e c'è finalmente il destinatario della cosa prima di andare avanti due cosette di matematica non vi spaventate facciamo in fretta perché sono gli esponenziali e i logaritmi chi non ne ha mai sentito parlare? vedi che siete bravi sostanzialmente si gioca con le moltiplicazioni perché gli esponenziali sono in pratica delle moltiplicazioni ripetute e il logaritmo è lo strumento che ci permette di tornare indietro immaginiamo di avere un nuovo covid con un numero di contagiati che raddoppia ogni giorno quella sarebbe una tabellina che adesso somigli banalmente alla potenza di 2 di cui tutti noi conosciamo le implicazioni binarie è una simpatica coincidenza per cui l'esponenziale è quello che ci fa andare da questo lato quindi 2 alla 4 perché 2 è il raddoppio 2 alla 4 fa 16 se voglio tornare indietro è il contrario 64 quale esponente devo dare al 2 perché esca 64? 6 le proprietà dei logaritmi sono quelle che le hanno resi famosi era difficile fare i conti senza calcolatrice noi credo nessuno di noi è nato quando non c'erano una volta c'erano i regoli dei righelli che si spostavano perché i logaritmi come vedete trasformano una moltiplicazione logaritmo di c per d equivale al logaritmo di c più il logaritmo di d per cui posso trasformare ciò che è una moltiplicazione in una somma e ciò che è una divisione in una sottrazione potrebbe semplificarmi i calcoli senza calcolatrice qualcuno dei più vecchietti qua dentro si ricorda forse le tavole dei logaritmi l'ultima pagina del quaderno delle elementari io purtroppo me le ricordo così tanto per visto che la vedremo spesso il logaritmo dell'inverso di una cifra è meno il logaritmo perché il logaritmo di 1 fa 1 qui sono due proprietà fondamentali ma insomma ci andremo veloci se posso andare avanti ci incasiniamo la testa con quelle che si chiamano le distribuzioni di probabilità ovvero molto semplicemente una lista di numeri se io vi dico una lista di numeri voi siete felici queste sono le distribuzioni di proprietà l'unica caratteristica che devono avere è che la somma di tutti questi numeri deve fare uno e fra un attimo vediamo perché guardiamo un aspetto grafico della situazione quella che vedete a sinistra blu e arancio è una distribuzione di probabilità metà cerchio per il testa metà cerchio per la croce una moneta equa io lancio non sono mai certo di cosa possa uscire perché la moneta è perfettamente bilanciata ok se invece ho una moneta truccata una delle due facce esce più di frequente quindi il numero relativo per esempio all'arancio potrebbe essere 0,9 o suona come 90% l'altra parte dato che la somma deve fare uno come il 100% non può che essere 0,1 questa cosa la posso complicare con una distribuzione uniforme per un ipotetico dado a 5 facce per esempio un pentaedro forse una cosa a 5 facce oppure posso fare una frequenza quella che vedete qui è la frequenza delle lettere in Alice nel Paese delle Meraviglie in inglese qual è la lettera più frequente? lo spazio che è quello prima della A è la lettera più frequente in un testo quindi qui non c'è una probabilità che è sempre uguale è come la moneta truccata solo che invece di esserne due ne sono tante ok? l'ultimo strumento che ci serve ok? di cui dobbiamo conoscere il nome per capire è la cosiddetta probabilità congiunta di eventi indipendenti cosa significa? se io lancio una moneta ed esce uno delle due facce e la lancio di nuovo questo lancio non può dipendere dalla prima chi vuole essere molto pignolo dirà si dipende perché si è levemente difformata quando è caduta sul tavolo per cui quando io la rilancio farà una cosa perché due atomi in meno sono rimasti lì facciamo finta che non siano dipendenti quando le probabilità sono indipendenti queste si moltiplicano perché naturalmente essendo due numeri minori di uno la loro moltiplicazione sarà ancora più piccola cioè la probabilità che accadano due cose alla stessa maniera deve essere solo più piccola per cui per una moneta non truccata due volte testa ha una probabilità di un quarto di succedere di succedere 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 ok? quindi è una moltiplicazione quindi sappiamo cos'è una distribuzione sappiamo come funzionano i logaritmi e sappiamo che le probabilità si moltiplicano per come sono costruite ci siamo? secondo voi si può misurare una sorpresa quando siamo sorpresi? quando è che veniamo sorpresi? quando veniamo sorpresi? quando cosa succede quando veniamo sorpresi? qualcosa che non ci aspettiamo riceviamo lo stipendio in molte aziende è così mi sembra giusto perfetto oppure lo scoprire di una nuova tassa trattenuta comunale improvvisa tu ti stupisci ok? allora funziona più o meno così se prendiamo il logaritmo di una cosa che ha una certa probabilità il logaritmo trasforma tutto ciò che si moltiplica in tante somme per cui abbiamo trasformato una probabilità in qualcosa che si può sommare ma se una cosa è molto poco probabile io sono molto sorpreso il 25 dicembre è Natale chi si sorprende di questo? perché lo sappiamo è il cosiddetto evento certo probabilità del 100% per esempio però in Venezia ci sarà un Natale o una festa che si cura quel giorno per cui no? invece se a un certo punto ci dicessero il 26 dicembre è Natale tutti faremo scusi un attimo cioè c'è qualche cosa che non va ok? se quindi prendiamo l'inverso della probabilità possiamo quasi pensare che questa sia la misura della sorpresa più una cosa è poco probabile il suo inverso diventa molto grande noi siamo molto sorpresi prendiamoci il logaritmo e ora le possiamo sommare perché questa fissa della somma ragazzi? perché quando misurate da qui a qui è un metro mi è finito il metro metto il dito misuro quest'altro sono due metri le ho potuti sommare una unità di misura di qualcosa se non è sommabile è il cosiddetto bordello ok? quindi abbiamo fatto una cosa molto simpatica vediamo quant'è la sorpresa di una moneta non truccata ha una probabilità di 0,5 ovvero il 50% che accada l'uno l'altra faccia la misura di questa probabilità prendendo il logaritmo del suo inverso è uno che Shannon ha chiamato bit of information nell'articolo di Shannon bit non è binary digit è proprio un pezzetto di informazione perché era qualcosa che ci poteva dire a riguardo di due possibili condizioni girare a destra o a sinistra testa o croce immaginate che nel 1948 non so se l'algebra binario era stata già fatta forse sì però non c'era applicata a tutto questo questa cosa per noi adesso è un po' scontata che una cosa che ha due stati è un bit ma adesso immaginate di stare nel 1948 senza i transistor con le valvole sì ma nessuno aveva mai dato un nome a questa roba se io invece ho il famoso pentahedro il dado a cinque facce ho bisogno di 2,322 bit qui non stiamo parlando dei bit nostri che devono essere per forza un numero intero perché questa è una misura 2,27 metri 2,322 bit ok se invece la distribuzione non è uniforme come per esempio per la moneta truccata Shannon ha pensato di usare la media pesata quindi è una media pesata come quella che abbiamo imparato alle medie e nel caso di quella famosa moneta che praticamente esce al 90% croce per esempio la sua sorpresa media è di 0,47 bit e meno perché ovviamente non ci sorprendiamo 9 volte su 10 ci dà meno sorpresa Shannon ha detto sapete che c'è chiamiamo questa sorpresa entropia perché è un nome figo ci piace molto somiglia tanto a quella della fisica ovvero disordine ovvero una cosa che ci può sconvolgere e lui ha detto sapete che c'è facciamo una bella media pesata di questa distribuzione di probabilità di ciò che sta succedendo che può essere le lettere Alice del Paese delle Meraviglie un pentaidro qualunque cosa lo stipendio qualunque cosa la chiamiamo entropia quale di questi ha entropia maggiore quindi quale delle due figure la destra o la sinistra la destra perché sono più stati e quindi siamo molto più sorpresi ogni volta che succede ok ha bisogno di 2,322 bit di informazione chiediamoci allora quanta informazione c'è in questi dati Shannon dice proviamo a capire quanti bit ma non i nostri i bit di informazione servono per ogni simbolo è chiaro che qua parliamo di simboli gli ideogrammi cinesi le nostre lettere qualunque cosa abbiamo una distribuzione di probabilità che questi simboli accadano vediamo un po' quant'è l'informazione che c'è nei dati in modo tale che io prendo solo quello che è necessario li comprimo e sono in grado poi di ritirarli fuori una volta che li ho ricevuti la questione è che a questo punto l'informazione quindi contenuta in questi dati sono questi questi bit che ne escono fuori e Shannon dice sai che c'è secondo me è l'entropia questo valore secondo me il numero di bit necessari per rappresentare questa distribuzione di probabilità di questo insieme di simboli è esattamente l'entropia come fa un matematico a dimostrare questo ci sono tanti metodi nel caso di Shannon che ha fatto questa dimostrazione e che non vedremo perché è matematicamente impegnativa dimostro che c'è un limite superiore dimostro che c'è un limite superiore quindi questo numero è tra questo e questo e poi dimostro che questi due limiti sono uguali il che significa che non può che essere quello che è ciò che ha fatto Shannon mirabilmente di questo vediamo un esempio per farvi vedere che tutto sommato è sostanzialmente vero conoscete la codifica di Huffman l'avete mai sentita? Cante volte funziona che si prende i simboli che abbiamo e la loro probabilità nota a priori questo qua non è verosimile nel mondo reale tant'è vero che c'è la codifica di Huffman diciamo dinamica al volo esiste la teoria che fa funzionare questo c'è un algoritmo simpatico che genera un albero il cui albero alla fine fa questa magia il simbolo che è più probabile ha una parola di codice più breve e il simbolo che ha probabilità minore ha il codice più lungo siamo riusciti a comprimere l'informazione che dovevamo trasmettere infatti vediamo un attimo che succede succede che di teoria l'entropia è 2,54 ok allora calcoliamo la lunghezza media di questo codice sempre con la media pesata lo moltiplichiamo con la sua probabilità ed esce fuori 2,6 ci siamo andati molto vicini la codifica di Huffman infatti è chiamata è una delle codifiche ottime possibili ce ne sono ovviamente di quelle che arrivano esattamente all'entropia quindi in pratica siamo giunti a conoscere il primo teorema di Shannon che ci dice che esiste un codice che è lungo mediamente L che è compreso tra l'entropia e l'entropia più 1 questo è proprio il caso più pratico in assoluto attenzione perché come tutti i teoremi più belli ci dice che esiste non ci dice come trovarlo quindi noi siamo sicuri solo che c'è e di fatti sono stati trovati più di uno la seconda domanda è quanto veloce possiamo andare ok voi avete una sensazione del fatto che non sempre è possibile andare molto veloce ma nella vostra vita non con i modem non con qualunque altra cosa chi mi sa fare un esempio di quando si è costretti a rallentare per esempio per esempio per esempio una strada in salita bisogna rallentare ma se siamo per esempio ad un concerto e ho bisogno di dirti qualcosa ti devo urlare nell'orecchio e dirtelo lentamente perché altrimenti capace che non sei in grado di sentirlo questa idea era la base di una cosa molto economica perché Hartley e Nyquist giocavano con il telegrafo ok domani se è bel tempo se volete venire all'Hackspace ci siamo io e altri amici radioamatori a fare schifo anche con la telegrafia per esempio ma a questi servivano i soldi più telegrammi possiamo mandare più ci guadagniamo ok e loro si erano molto interrogati su come tutto questo potesse funzionare ma non c'erano riusciti a mettere insieme una teoria fatta bene non c'erano assolutamente riusciti ma si conoscevano tante cose si conosceva il teorema del campionamento si conoscevano l'analisi di Fourier conoscete che cos'è Fourier vedo dei sì vedo dei purtroppo sì ok anche il teorema del campionamento probabilmente è noto a molti perché è alla base per esempio di trasformare qualunque cosa analogica in digitale ok quindi ci si interrogava sostanzialmente su quanto veloce si potesse andare con la telegrafia in un canale a banda limitata ovvero i fili del telegrafo quanti di voi hanno sentito parlare della banda quanti forse tutti penso no ci stanno mille definizioni di banda ma prima di vedere questo dobbiamo scoprire come si fa a vedere che cos'è la banda si fa con l'analisi di Fourier io ringrazio il mio amico Emiliano che mi ha dato un'idea geniale per farvi capire questo per chi non è avvezzo e spero siate in pochi se noi prendiamo queste due sinusoidi qui e le potessimo sommare insieme viene fuori questa forma d'onda qua che non è più una sinusoide è una schifosoide questa schifosoide è fatta da queste due sinusoidi e se le guardiamo di lato se qui c'è il tempo qui c'è l'ampiezza e qui c'è la frequenza tanto amata a Fourier le vediamo di spalle e sono delle sogliole ok quindi noi sappiamo che questa schifosoide è fatta così questo è il suo spettro è come se fosse una radiografia anche noi abbiamo un'altra rappresentazione di noi stessi la radiografia è un'altra rappresentazione di noi stessi lo spettro è un'altra rappresentazione di un segnale ok quindi qualcosa che varia c'è tutta una serie di quelle robe lì chissà perché è andata via la luce perché è un po' più intimo più intimo in pratica la banda che cos'è se c'è un canale qualunque dove devo trasportare una determinata quantità di tutte quelle sinusoidi che occupano spazio in frequenza non è detto che c'entra tutto il famoso doppino telefonico o i fili telegrafici non hanno la possibilità di far passare l'infinito e sfortunatamente niente nell'universo lo fa fatto sta che se poi volete vi spieghiamo anche perché ho qualche idea per convincervi che due fili elettrici non possono far passare tutto ad ogni modo quello che conta è che a un certo punto questi fili inizieranno ad attenuare e quindi il mio segnale viene buttato via Nyquist aveva determinato mirabilmente che la velocità degli impulsi telegrafici non potesse superare due volte la banda che passava in quel determinato doppino per chi conosce il teorema del campionamento stiamo prendendo la prima armonica ma non è importante da dire l'intuizione di Hartley è stata che eccolo qua l'intuizione di Hartley è stata il precursore di molte cose che ha fatto Shannon adesso vediamo quanto è bella immaginate che per trasmettere il telegrafo funziona che o sei giù o sei su o c'è il bip o non c'è immaginiamo di poter fare quattro bip uno che non c'è uno un po' piano uno un po' più forte e uno fortissimo in una botta sola possiamo trasmettere quattro possibili simboli ho trasmesso due bit insieme in una botta sola questo era il meccanismo Hartley dice guardiamo facciamo in modo che i telegrafi riconoscano non solo la presenza o l'assenza ma anche per esempio il volume ok oppure quanti volt ci sono in quel momento e ha detto sai che c'è il numero di cose che posso riconoscere è pari a uno più l'ampiezza totale diviso il numero di intervalli nel quale ho diviso questa cosa io all'inizio non l'avevo capita ma se voi dividete una cosa in quattro avete cinque livelli e quello è l'uno più che non non mi tornava senza averlo disegnato prima ovvero questo ok anche Hartley ha avuto la stessa idea prendiamo il logaritmo di questo perché altrimenti ho dei ho dei problemi se lo facciamo possiamo vedere quanti bit per ogni impulso e se io moltiplico questo per il numero di impulsi al secondo che posso fare perché l'avevano determinato poco prima ho finalmente quello che conosciamo come baud ovvero quanti simboli al secondo posso trasmettere questa cosa c'è sempre la legge che ci diceva che non può essere mai più di due volte la banda e questa è quella che Hartley determinò come sua legge mirabile ovvero che il numero di simboli che potevo trasmettere non può essere più di questo valore qui ora questa forma di equazione ricordatevela perché è molto bella Shannon nel suo secondo teorema dopo aver letto tutto il lavoro di Hartley fa una cosa mirabile complicatissima immensamente difficile da capire che è quella di ho la probabilità di quello che succede su un canale posso determinare quanta roba ci può passare questo è qualche cosa di matematicamente meraviglioso e Shannon determina nel suo secondo teorema che se ho un canale di capacità c bit al secondo posso trasmettere al massimo alla velocità r se r è minore della sua capacità voi dite grazie è ovvio posso andare posso andare solo più piano del massimo che ci posso che ci posso trasmettere beh questa è una cosa fondamentale perché il dettaglio di Shannon è che ci dice che questo io lo posso fare perché esiste sicuramente una codifica per cui posso recuperare dagli errori la correzione dagli errori a patto che io trasmetta più lentamente della capacità del canale questo fatto voi immaginate quanto è possibile scoprire quali sono le probabilità che un canale mi distorca la mia informazione misurarlo e che questo sia sempre così è impossibile è una cosa assolutamente teorica il lavoro finale di Shannon è stato quello di dire cosa succede in un canale reale qual è l'influenza della cosa certa che ho ovvero il rumore quello che succede è che viene fuori tra l'altro qui la matematica non è nemmeno così cattiva avendo digerita quella prima è la famosissima formula di Shannon Hartley ovvero la capacità di un canale equivale alla sua banda passante per il logaritmo in base 2 di 1 più il rapporto segnale rumore il rapporto segnale rumore è quanto forte è la mia componente utile rispetto alla porcheria quanti ricordano il rapporto segnale rumore sulla DSL che sotto una certa soglia non andava più e il motivo è esattamente questo e quanto somiglia la formula di Hartley sono similissime il povero Hartley non aveva gli strumenti per ficcare dentro la sua formula quello che succedeva con il rumore ma è diciamo molto carino tutto questo dato che siamo back to the root io vorrei fare un back to the root fatto bene vediamo se funziona funziona forse già l'avete sentito questo ok io ho detto perché non ci facciamo due conti ho dovuto fare un po' di ricerche come facevamo ad andare a 56 K sul doppio telefonico allora ho scoperto che il rapporto segnale rumore di una linea telefonica analogica tipica dell'epoca era di circa 20 dB ovvero 100 volte e la banda disponibile era di circa 3100 Hz 3,1 kHz parliamo delle linee telefoniche analogiche fino agli anni 80 primi anni 90 ok se lo mettiamo nella formuletta di Shannon ci esce fuori 21 kbit ne mancano 35 all'appello come poteva funzionare tutto questo beh funzionava che nel momento in cui c'erano i modem le centrali non erano più analogiche non erano più meccaniche con tutti i sistemi di commutazione meccanici ma erano diventate digitali ok l'unica parte analogica era l'ultimo miglio la magia è che tutto questo aveva fatto diventare il rapporto segnale rumore ovvero tutte le schifezze che aggiungevano queste centrali analogiche con amplificazioni durante il tragitto di questi fili terrificanti con cose molto brutte a cose molto belle perché arrivavamo a quasi 35 dB dove l'unico problema non era tanto l'ultimo miglio quanto il rumore di quantizzazione voi sapete che per digitalizzare un segnale si prendono a seconda del numero di bit che abbiamo una determinata scalettatura della realtà la differenza che è quella che per esempio vedete sotto con il segnale di sopra è come se fosse rumore che si aggiunge porcheria che non ci sarebbe stata se fossimo stati in grado di prendere tutto in questo caso noi riusciamo ad arrivare a 35 dB di segnale rumore e se lo chiediamo a Shannon esce fuori 35 kilobit circa che è il V34 i 33,6 dell'epoca che funzionavano praticamente sempre come si è arrivati al V90 il V90 è un mirabile esempio di ingegneria perché hanno sfruttato tutto ciò che c'era nel caso delle centrali digitali voi sapete che tendenzialmente la frequenza di campionamento è di 8 kHz ovvero abbiamo una banda che viene dal teorema di campionamento di teorici 4 kHz ma non saranno mai tutti quanti di fatti ne sono circa 3.8 nelle centrali moderne per cui facciamo così usiamo tutte 3.8 i kHz disponibili inoltre possiamo eliminare il rumore di quantizzazione perché lo possiamo fare? perché i modem dei provider non avevano niente di analogico erano collegati direttamente in digitale il che significa che il downlink aveva esattamente i valori dei quanti di quantizzazione non c'era mai nessun errore di quantizzazione in download tant'è vero che il V90 è stato praticamente il primo completamente asimmetrico che abbiamo avuto a casa prima della DSL ci accontentiamo di tutto questo e ci facciamo un brindisi con 45 db di segnale rumore guardate un po' cosa succede se lo mettiamo dentro la formuletta di Shannon esattamente 56 kbit questo è diciamo è carino perché questi numeri dei db di rapporto segnale rumore diciamo che si trovano alcuni sono stati addirittura in vecchie leggi dello Stato italiano degli anni 60 ci sono i requisiti per le compagnie di telecomunicazioni forse anche prima perché non c'era solo la SIP c'erano alcune compagnie regionali territoriali e lo Stato determinava questi parametri tecnici la maggior parte di questi numeri sono addirittura riconducibili a qualcosa di ufficiale io vi vi lascerei così se ci sono domande possibilmente facili io sono qua sono stato nei tempi Lorenzo pronto? prova eccolo no sei stato eccezionale se ci sono domande da parte di qualcuno se no lo dovete andare a ghermire in giro e farle domande li ho sterminati Lorenzo hai fatto benissimo ti dovrei fare una domanda io fammela però non te la farò probabilmente aggiungerò una cosa perché la dico la sono andata a ricercare la ricordavo ma la volevo riportare insieme sul perché avesse chiamato entropia quel valore perché ne parlò con von Neumann addirittura parlò con von Neumann all'epoca diciamo erano coetanei volevo di pischelletti insieme ma erano nati vecchi credo entrambi quindi non esistono non ne ho mai visto foto i von Neumann di Shannon da giovane quindi probabilmente sono così e ne parlò di questa teoria von Neumann che poi aveva un altro pezzo che ha fatto un altro pezzo da 90 che ha fatto diciamo l'informatica da modelle von Neumann altre cose anche peggiori tipo a che altezza far esplodere le bombe atomiche o altre cose comunque gli disse guarda perché non la chiami entropia per due motivi uno perché è la stessa formula proprio è esattamente la stessa dell'entropia in meccanica statistica quindi non in termodinamica ma in meccanica statistica ed è praticamente la media pesata dello stato delle particelle all'interno di un gas quindi praticamente uno è quantizzato lo stato e quindi è come dei simboli quello che spiegava Normando prima e la formula è uguale e l'altra dicendo perché comunque è un termine figo è un termine figo che quando lo usi già sei in vantaggio rispetto agli altri quindi questa era volevo completare questa cosa che aveva detto Normando un applauso ancora e io nel frattempo gli prendo il regalino che lo merita grazie 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 grazie